Migliorano i dati del mare di Pescara, lo dicono i dati diffusi da Confcommercio che ha commissionato nuove analisi delle acque ai tecnici dell'associazione Nuovo Saline. Nello specifico il presidente della Sib Confcommercio Riccardo Padovano ha posto l'accento anche sull'eccessivo clamore dato alla vicenda. I dati dicono quello che si sostiene da tempo e cioè che la qualità delle acque è migliorata. C'è un fiume malato ma la situazione delle acque del litorale della città sta dando comunque risposte positive. Riccardo Padovano. Che noi effettivamente andiamo sostenendo da anni, allora noi ci siamo messi in mente di fare questa azione qua. Monitoriamo tutte le settimane il nostro tratto di mare per tranquillizzare i bagnanti, per tranquillizzare i pescaresi e tutte quelle persone che scelgono di venire a Pescara. Non può essere un aspetto burocratico che a noi non ci consente di poter dare la tranquillità e la chiarezza ai bagnanti stessi. Abbiamo incaricato una società ambientalista a farci monitoraggio, abbiamo i dati. Su Via Balilla che sembrava che era una tragedia invece stiamo sopra ma non superiamo i 50 escheriacoli. Questo che vuole significare? Che se noi continuiamo a monitorare serenamente diamo la tranquillità ai bagnanti. Non possiamo aspettare il secondo analisi perché poi la regione ci deve togliere il divieto. Può anche rimanere il paletto con il divieto, ce ne importa non molto. L'importante è che i bagnanti quando vengono in spiaggia vengono e vedono il nostro bollettino del mare e attraverso il bollettino del mare tranquillizziamo tutti. Gianluca Milillo, tecnico ambientale e presidente dell'associazione Nuovo Saline, ha presentato i dati accolti sottolineando che il campionamento eseguito per conto di Confcommercio ha confermato che attualmente e limitatamente alle aree visitate e alla tipologia di analisi effettuate la situazione è ottima e che i dati e lo studio scientifico hanno confermato un miglioramento dello stato di salute ecologica del mare di Pescara. La scienza e la matematica non sono opinioni, quindi automaticamente l'unica vera risposta e conferma con il lavoro che aveva fatto l'Arta poteva venire solo da uno studio di tipo scientifico. Di certo se avremo l'opportunità di poter continuare questo tipo di campionamento e analisi saremo in grado di focalizzare momento per momento lo stato di salute ecologica del nostro mare.